Un progetto di crescita e di sostegno al territorio. È questo il messaggio che lancia Banca Patavina presentando la nuova iniziativa mutualistica Patavina con te ETS. Come nasce Patavina con te? Nasce da una volontà della Banca Patavina per dare delle risposte alle persone, alle famiglie, alle imprese, ai giovani e soprattutto in un momento molto particolare che stiamo vivendo. Noi abbiamo sempre operato con tante iniziative a favore dei nostri soci che ricordo sono circa 11.000, dei nostri clienti che sono circa 50.000 per dare loro anche degli strumenti per creare un network tra di loro per valorizzare anche socialmente e culturalmente le finalità e quello che siamo come Banca Cooperativa. Attraverso questo strumento innovativo, con il contributo anche della nostra Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, vogliamo, abbiamo creato uno strumento per dare un qualcosa in più molto attuale e moderno. Perché un socio dovrebbe essere interessato a questo progetto? Allora, un socio può essere interessato per diversi motivi. Intanto poter beneficiare di una serie di scontistiche e di iniziative promozionali rivolte appunto ai soci della mutua che vanno da sconti sia nelle palestre, sia in attività sportive, attività anche però legate all'ambito del rimborso socio-sanitario rispetto a visite mediche che possono fare presso strutture convenzionate con Patavini al Contello. Quando parliamo di una mutua, siamo abituati a pensare alla mutua come l'assistenza in termini o delle opportunità in termini di salute, in termini... e questo invece è uno strumento che va al di là. Quindi un'attenzione certamente alla salute, dando delle risposte, ma anche un'attenzione a una crescita generale nei confronti dei giovani, nel mondo della formazione, nel mondo della ricreazione, nel mondo dello sport. Noi siamo convinti che questo sia uno strumento importante per dare una risposta concreta delle esigenze che proprio la pandemia ci ha fatto vivere, le ha scoperte diciamo ecco in maniera così forte e determinante. I nostri utenti si possono associare sia online nel nostro sito, sia con l'app oppure presso gli sportelli, i tanti sportelli del BCC Patavino.